ciao a tutti ciao a tutti buon lunedì buon inizio di settimana ma soprattutto buon anno buon inizio 2024 io vi auguro veramente che quest'anno vi porti tutto ciò che voi desiderate soprattutto insomma tanta salute e tanta serenità comunque per quanto riguarda invece gli accadimenti in quel di milano in questo mese si sono susseguiti veramente uno dopo l'altro e uno più diciamo interessante dell'altro perché perché sappiamo tutti che youtube paga di più a dicembre quindi l'attività lavorativa alla barona è stata veramente molto alta ecco ci sono stati tutti i giorni vlog live molte molte live e ci sono stati anche degli accadimenti particolari ad esempio il 24 nessuno si sarebbe mai aspettato che insomma la famiglia di chiara quindi il fratello la sua famiglia e la figlia sharon sono andate a festeggiare la vigilia con loro e niente noi siamo contenti di ciò siamo contenti che chiara riallacci i rapporti familiari o per meglio dire li coltivi e speriamo insomma che questo possa accadere anche con i familiari di davide magari hanno invitato i familiari di chiara per la vigilia di natale potrebbero invitare senza battute i familiari di davide quindi la sorella il marito i nipotini per la befana in ogni caso hanno fatto questo pranzo questa cena insieme la vigilia dopodiché il giorno dopo chiara è dovuta correre in ospedale perché perché ha avuto dei problemi alla gamba non si capisce se erano formicoli se non se la sentiva se sentiva questa gamba addormentata fatto sta che è stata visitata e dovrà fare ulteriori accertamenti tra le quali una risonanza magnetica e vedremo poi in seguito dopo aver fatto questa risonanza magnetica cosa verrà fuori sicuramente ci terrà informati però cos'è accaduto che nel mostrare le carte delle dimissioni di questa diciamo visita per la gamba e è accaduto che le ha fatto vedere i valori della glicemia e i valori ragazzi erano alti era 395 di glicemia che cosa è accaduto che giustamente tutti quanti quelli che hanno un minimo di esperienza per quanto riguarda gli analisi del sangue hanno subito pensato che chiara fosse diabetica e ci si è stupiti non poco nel senso tutti quanti più o meno pensavano che chiara potesse soffrire di diabete perché perché beveva molto perché insomma si è visto che le gambe erano un pochino gonfie e insomma tante altre cose suggerivano che lei potesse soffrire di diabete e tante persone le avevano suggerito di andarsi a fare una visita in questo senso però lei aveva sempre detto che le sue analisi erano perfette quindi che lei non soffrisse di diabete che non soffrisse di nulla però a quanto pare che lei appunto aveva questa malattia lo sapeva già da un mese prima di questo ricovero al pronto soccorso e parlo del 25 di dicembre quindi quando lei diceva che aveva le analisi perfette mentiva sapendo di mentire comunque andiamo a dare un'occhiata alla live che ci interessa perlomeno mi ha interessato di più ne ha fatte veramente tante guardarsene tutte sarebbe veramente un volersi tanto tanto male ma io ho guardato quella intitolata un mio malgrado vi parlo della mia malattia e io vi parlerò di questa live la vediamo con un maglione peloso verde acido del grinch di primark ovviamente coda alta e sguardo fiero e ci dice che in quel video si peserà in questa live scusate si peserà anche non l'ha messo nel titolo che faceva la pesata perché perché lei non ha bisogno di fare titoli a chiappa visualizzazioni e questo noi lo sappiamo bene lei nella sua vita youtubica non ha mai fatto questi titoli clickbait assolutamente comunque dice che lei non ha bisogno di fare questi titoli perché perché lei parla con la verità in mano ok dice che un mese prima un mese fa praticamente lei ha fatto degli esami di routine sia lei che Davide tutto ok tutto a posto tutto perfetto però è risultato appunto che lei ha il diabete di tipo 2 quindi quello alimentare per il quale le hanno prescritto la metformina 500 che le prende due volte al giorno a pranzo e a cena quello che invece che l'ha portata all'ospedale il 24 non è stato il diabete una causa del diabete o quant'altro ma è stato un problema neurologico cioè un problema che dipende dal cervello e che lei dice potrebbe essere anche sclerosi multiple anche se le hanno detto di no però insomma a quanto pare non si sa ci dice che le ramba sta migliorando che le hanno consigliato una pastiglia però che lei non ha preso praticamente appunto perché stava migliorando e quindi ha deciso di non prenderla poi ci parla della pesata ci dice che lei faceva 142,2 quando si è pesata l'ultima volta che comunque dimagrita ci dice anche che soffre di ipertensione e qua insomma vuol dire che queste analisi proprio tutte tutte ok non erano perché già il diabete già l'ipertensione insomma qualche cosa di sballato c'era comunque per questa ipertensione prende comunque delle pastiglie e che quindi ora la sua pressione è perfetta quindi quando dice che i suoi esami non erano sballati erano giusti erano perfetti si riferiva ad altri valori e non a quelli glicemici che lei sapeva già erano alti ci informa anche che quando è andata all'ospedale aveva 328 di glicemia perché è andata a stomaco pieno poiché alla vigilia di Natale comunque aveva mangiato ci dice anche che ha preso tutto ciò che le serve per misurare la glicemia a spese sue ragazzi perché? perché lei non è una parassita e non è esente allora piccola parentesi carissima Chiara quando si ha il diabete si fa una visita diabetologica al centro appunto diabetologico e lì se sei diabetica ti danno la macchinetta gratis non è una cosa parassitaria tutti quelli tutte le persone che soffrono di diabete possono avere queste cose ragazzi gratis ok? non c'è bisogno di acquistarli quindi sarebbe bastato Chiara che tu avessi fatto una dieta al centro diabetologico per avere tutto l'ambaradan non è non è essere parassiti questo ti tocca te lo danno punto quindi ragazze ragazzi donne uomini che avete il diabete e che andate al centro diabetologico che vi fornisce di aghi di striscette per vedere appunto la glicemia e anche di pungidito praticamente non vi sentiate assolutamente in colpa non siete dei parassiti queste cose vi toccano quindi state tranquilli Chiara inoltre dice che di questa cosa cioè del fatto che lei aveva il diabete non ne ha voluto parlare perché voleva dirlo con i suoi tempi che anche il padre e la madre avevano il diabete di tipo 2 ma il suo non è un diabete ereditario è un diabete ragazzi perché ha mangiato in maniera scorretta mostra poi le carte dell'ospedale insomma delle sue dimissioni di tutto ciò che ha dovuto fare di tutto ciò che le hanno riscontrato si dice contentissima che il marito non abbia il diabete siamo contenti anche noi però cara Chiara metti anche lui a regime perché se non ce l'ha adesso se continua a mangiare come mangia insomma un giorno potrebbe darsi che si ritrovi anche lui a doversi curare per questa patologia e in ogni caso dice che il marito sta seguendo il suo stesso la sua stessa dieta anche se con porzioni maggiori appunto fa vedere il verbale di dimissioni dell'ospedale del 25 dicembre con tanto di numero di telefono suo quindi ragazzi questa volta è stata lei a far vedere appunto dove poterla chiamare io vi invito a non farlo ragazzi cioè a non usare questo numero di telefono perché insomma lei ha sbagliato però insomma cerchiamo di essere un attimino educati ed intelligenti e non usarlo e dopodiché ragazzi finalmente la famosa pesata ma prima di tutto parla del bestione dicendo che lei non aveva mai detto di avere un tumore e comunque dice che probabilmente un giorno mostrerà anche le prove dei bambini dei famosi gemelli dice che lei era al terzo mese e doveva entrare nel quarto dopodiché dice una cosa un po' particolare e cioè che se si googla il fatto dei gemelli praticamente gemelli esce che per quanto riguarda la gravidanza gemellare è quasi una routine che finisca con il riassorbimento questa gravidanza gemellare con il riassorbimento dei bambini o con la morte di uno dei gemelli quindi secondo lei è quasi routine e quindi questo riassorbimento ragazzi a quanto pare avviene ed io secondo voi ragazzi cosa ho fatto ovviamente sono andata a googlare e mi esce questo l'arresto dello sviluppo ed il conseguente riassorbimento di uno più feti nel primo trimestre di gestazione è quindi un fenomeno frequente in caso di gravidanza multipla 20-50% il gemello che scompare può manifestarsi clinicamente con sanguinamento genitale e io allora faccio questa domanda se effettivamente può accadere questo quando una persona rimane incinta servono più visite servono più ecografie serve un controllo maggiore soprattutto se la mamma in questo caso è in sovrappeso o è in là con l'età ricordiamo che quando presumibilmente Chiara era incinta insomma aveva più di 40 anni e comunque un peso abbastanza considerevole quindi avrebbe dovuto sottoporsi a più esami perché non è stato fatto da quello che sappiamo noi praticamente si è fatta soltanto un'ecografia perlomeno quello è quello che ha fatto vedere a sua mamma quindi cioè resta questo mistero perché non si è fatta visitare più volte soprattutto perché lei ha detto che prima è scomparso un gemello e poi l'altro ma questo penso che sia uno dei misteri che non risolveremo mai e finalmente andiamo alla pesata fa vedere come è vestita dice che è vestita pesante con questo maglioncino appunto di Primark anche se poi la mamma dice Luciana dice sì sarà ingombrante quel maglioncino ma non è pesante io devo dire che Luciana non si risparmierà in questa live a parte che molte volte interromperà Chiara si sovrapporrà a lei ma poi insomma non mancheranno anche delle battute in ogni caso dice che farà questa pesata stomaco pieno viene inquadrata per far vedere che attorno a lei non c'è nulla su cui appoggiarsi e dopodiché chiede anche alla mamma di fare un video per far vedere ulteriormente che lei non si appoggia a nulla e vediamo a questo punto appaiono i suoi piedini che effettivamente appaiono ragazzi un po' gonfi ed arrossati con l'alluce del piede sinistro leggermente appunto arrossato è anche un po' spellacchiato devo dire e vediamo il peso che è di 126,4 quindi effettivamente lei è dimagrita poco perché insomma dall'ultima pesata sono passati anni praticamente però comunque è dimagrita e siamo contenti per lei assolutamente dice che comunque lei non rinuncerà a mangiare alle feste perché dice io devo fare tante rinunce durante tutto l'anno quantomeno alle feste voglio mangiare certo non mangerò come mangiavo una volta però comunque qualche dolcino me lo voglio concedere dopodiché ci mostra il video che ha fatto la mamma con un altro telefono per far vedere appunto che la pesata non è taroccata e diciamo che effettivamente è così nel senso che non c'erano cose su cui appoggiarsi quindi se la bilancia di Eleokitti è giusta lei pesa appunto 126,4 dice che non è contenta fa questo spoiler praticamente ci dice che non è contenta della live buasta che ha fatto dove praticamente ha detto parolaccio e dove ha gridato perché lei non è così ragazzi ma noi lo sappiamo che lei non è così questa cosa quando fa queste cose quando dice parolaccio quando urla praticamente lei fa una violenza su se stessa e fa uscire queste cose fa uscire la Chiara cattiva fra virgolette perché lei alla fine è una bravissima persona e queste cose non le farebbe mai oddio le ha fatte in passato ne ha fatte anche tante ne ha fatte anche adesso insomma l'ultima live buasta insomma è stata una live in cui non si è risparmiata però lei non è così dice che le minacce di fiamma con le minacce di fiamma ci si pulisce il di dietro non so di quale minacce parla comunque sicuramente ha qualcosa per pulirsi lì dietro e dopodiché per chi ancora avesse da ridire dice che le spese porcellose lei non le ha fatte assolutamente per lei ma per i parenti quindi anche se lei non poteva mangiare poverina insomma ha comprato questi dolcini per tutti i parenti poi tocca anche la questione pelle nel senso sta dimagrendo quindi potremmo pensare che la pelle le si afflosci che diventi un pochino flaccida invece lei dice no assolutamente la pelle io non sono flaccida sono sono bella tosta nel senso a parte probabilmente quelle delle braccia cioè praticamente la parte delle braccia che penzoleranno probabilmente un po' e da quello che ho capito Luciana lei ha detto che casomai ci può volare perlomeno quello mi è sembrato di comprendere in ogni caso lei dice anche che non vuole diventare pelle d'ossa che vuole rimanere sempre un po' in carne e poi si chiede quando le sparirà la pappagorgia su che cosa faranno le parodie allora purtroppo carissima Chiara io credo che se dovessi dimagrire io te lo auguro vivamente purtroppo la pappagorgia non sparirà casomai si svuoterà ecco ma non credo proprio possa sparire purtroppo ragazzi la pelle del collo e la pelle sotto al mento di solito non spariscono si appendono ecco io spero che possa sparire magari Chiara ti do un consiglio mettici un po' di crema nel senso fatti un po' di massaggi però insomma non credo possa sparire comunque a un certo punto ragazzi ci racconta una chicca e cioè che quando le è andate all'ospedale il medico le ha detto tutto bene però c'è la glicemia che è leggermente alta poi le ha detto quanto era alta la glicemia 300-300 e passa e lei ha cominciato a urlare dicendogli tra l'altro ma lei è un pazzo cioè lei al medico ha detto che il medico era un pazzo perché le aveva detto che la glicemia era leggermente alta invece era altissima quindi ragazzo anche questo povero medico e allora lui dopo che lei che non è medico non è nulla gli ha detto che praticamente questa glicemia era altissima gli ha fatto la flebo gli ha fatto la flebo per finire si rivolge a Dennis dicendogli di lasciarla in pace e di non passare più cose private ad altri allora ragazzi oltre questo queste belle insomma uscite nel senso che il fatto che c'è la glicemia il fatto che c'è la pressione alta il fatto che ha il problema la gamba insomma tutte queste altre cose che io spero sinceramente possa risolvere più presto c'è anche di fatto che abbiamo scoperto che la Luciana ha ricevuto la medaglia d'oro per il suo lavoro adesso io non so in che anno lei abbia ricevuto questa medaglia d'oro ma probabilmente il comune di Milano se ne ritrovava qualcuno che gli avanzava e quindi le ha date un po' così queste medaglie perché ragazzi una persona che fa il suo dovere perché è quello di lavorare di fare il lavoro in maniera giusta non dico perfetta ma insomma giusta è un dovere di chi lavora quindi dare la medaglia a una persona che ha fatto 32 anni di lavoro cioè ragazzi sinceramente non lo so comunque mi sembra un po' un po' troppo ecco mi sembra veramente un po' troppo perché a questo punto tutti quelli che abitano a Milano e hanno fatto il loro lavoro con serietà con costanza e con professionalità dovrebbero andare a bussare al comune di Milano e dire oh la vogliamo pure noi sta medaglia in ogni caso ragazzi loro hanno mostrato lei e la mamma hanno mostrato sciocchiare la mamma scusate hanno mostrato questa pergamena dove si diceva appunto che ha ricevuto la medaglia d'oro ma non la medaglia d'oro perché perché la medaglia d'oro ce l'ha il figlio appeso in casa tra parentesi ha detto Luciana che lei il foglio poteva appenderlo a casa no però tutte queste cose queste volgarità queste cafonate di appendere la cosa in casa lei non le vuole fare ha deciso di tenerlo nel cassetto peccato che poi Chiara ha detto quindi tuo figlio sarebbe un cafone perché tuo figlio la medaglia l'ha appesa ecco si danno anche come sempre la zappa sui piedi in ogni caso ragazzi questo non era tutto perché veramente sono successe ne sono successe di tutti i colori però era un breve riassunto quantomeno della salute di Chiara io vi ringrazio di avermi ascoltata come al solito vi mando un grosso bacio vi auguro ancora un buon anno se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi un like se volete lasciatemi un messaggio un bacio a tutti voi ancora ciao a presto